Conosci i tuoi campioni, la scheda del tuo idolo. Oltre il mito c'è la favola. La vita e la carriera di Gordon Banks appartengono a questa categoria. Nato a Sheffield nel 1937, il calcio gli entra subito nelle vene. Banks inizia ad avvicinarsi al ruolo di portiere in una squadra di calcio di minatori. Pochi anni dopo fu notato dal Chesterfield, che gli offrì uno stage a 18 anni. Chiamato dall'esercito di sua maestà l'anno seguente, si mantenne in forma in Germania, dove giocò come portiere della squadra del suo reggimento. La favola riparte da qui. Nel 59 il Leicester gli offrì il primo contratto importante e raggiunse la popolarità guidando la squadra a disputare da protagonista, campionati e competizioni nazionali. Nel 1963 arrivò la chiamata in nazionale, con la soddisfazione di essere ricordato come il numero uno del Mondiale 66 e come il miglior portiere di sempre nella storia inglese.